Saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone Sono Cosimo Mascolo Sono un compositore e arrangiatore di brani musicali La musica è una mia passione, un hobby, non è la mia professione Oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar Ho 70 anni, vivo in Italia, sono delle miti veneno esinte precisamente in Cadore Saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone